Buongiorno, con questa poesia intitolata Acidia chiudiamo la serie dei sette peccati di Trilussa. In un giardino un vagabondo dorme accucciato per terra, ha rinnicchiato che manco si distinguono le forme. Passa una guardia, alò dice cammina, quello si smucchia e gli risponde bravo, mi svegli proprio tempo, mi insognavo che stavo a lavorare nell'officina.